Buonasera popolo di Youtube, la cosa simpatica è che dovevo premere REC per iniziare la registrazione e ho premuto Termina Streaming e quindi come sto messo in questo preciso istante? Buonasera a tutti quelli lì della live, adesso compareranno zero spettatori perché avevo interrotto la chat come si chiama, lo streaming? Ragazzi sono ancora tutto elettrizzato, la Juventus vince il derby della Mole come al solito con il gol all'ultimo, come da copione e quindi è stata una roba pazzesca veramente è un derby comunque vada che lascia tutte le grandi emozioni sul finale come al solito Torino beffato sul finale così però prima di dire questo cerchiamo di fare un attimo di chiarezza altrimenti veramente rischiamo di dire 10.000 cose tutte insieme confusionari un po' come quando si parla del Covid, c'è chi parla dei complottisti, c'è chi parla del punto di vista medico chi la prende dal punto di vista politico, però se si dice tutto assieme non si capisce niente allora cerchiamo di dirle una cosa semplice, parliamo del derby come partita il derby è una partita a parte, quindi per cortesia non venite a dire eh ma il Torino è scarso, non ci azzecca niente, lo dicevo anche prima in live quando si gioca il derby puntualmente Roma-Lazio, Inter-Milan, la squadra favorita quella che arriva meglio perde il derby quella che arrivava da 4 sconfitte, 8 pareggi e 9 suicidi vince il derby cioè è così, quindi lasciamo stare, il Torino ha sempre messo in difficoltà la Juve, sempre quindi lasciamo stare questo discorso 1. Secondaria cosa, parliamo dei giocatori singoli ragazzi purtroppo si mantengono dei giocatori che effettivamente non stanno giocando bene bene, Kulusevski a me anche stasera non mi è piaciuto, non proprio malissimo però non mi è piaciuto Di Bala, non lo dico io, persino i cronisti quando al novantesimo ha potuto fare un cross lungo sul secondo palo perché era entrato in aria, stoppa anche bene il pallone e sbaglia il cross dicono i cronisti di Sky, dicono testuali parole Di Bala e questo cross è la fotocopia della sua partita quindi male quindi rimetto a loro un giudizio su Di Bala poi il perché non si sa, la posizione o non posizione io va bene, ho detto anche in live, capisco il discorso delle posizioni però diceva Allegri non perché parlare di Allegri per il semplice fatto che comunque uno di calcio ne capisce diceva sì però non esageriamo questo discorso dello schema 4-2-2-3-3-3-9-9-9-7-7-8 però quando uno deve fare uno stop può azzeccare un passaggio oppure di sinistro allungare dall'altra parte puntualmente la va a prendere il terzino o avversario anziché il tuo compagno perché è corto lì non è il 4-2-2, il 4-3-3 lì che proprio tu nelle gambe non ce l'hai, capito? non è una questione mentale e fisica però vabbè, basta parlare di Di Bala Ronaldo anche lui onestamente si è visto poco e poi ricordiamo avevamo l'assenza di Morata e onestamente un'altra cosa da dire Danilo, buon giocatore, ha fatto veramente belle prestazioni da quando comunque è arrivato Pirlo mi sembra uno di quelli un po' rinati dalla cura Pirlo però ci sarebbe da dire una roba quando è entrato Alessandro mi è sembrato che abbia spinto molto di più Danilo quelle volte che si propone in avanti purtroppo sbaglia, sbaglia delle volte i cross non ha secco un tiro non dico stasera ma anche in passato e anche stasera a un certo punto un passaggio facile l'ha sbagliato per Rabiot è partito un contropiede Alexandro mi sembra che comunque dia qualcosina in più sperando che ritorni a essere l'Alexandro che conoscevamo dall'altra parte è molto bene quadrato anche se lui, ripeto, ogni tanto è un po' fancazzista quadrato però ragazzi dai il cross e il tiro da fuori annullato cioè quadrato è quadrato come terzino comunque dà qualcosa si fa sentire bene Delict come al solito anche se purtroppo ha fatto un fallo d'ammunizione Bonucci ogni tanto prova sti lanci lunghi ma poi arriviamo al discorso di squadra e sto dicendo un po' a caso Cesni ha fatto una parata nel primo tempo su Zaza che veramente meriterebbe la palma di migliori in campo stasera e poi per me il migliori in campo rimane Chiesa un giocatore che difende, pressa, torna indietro a recuperare da quello che si chiama volume di gioco si chiama solitamente così fa di tutto veramente sto ragazzo e in più ti arriva anche a fare una bellissima azione su assist di Di Bala una delle poche cose buone che ha fatto Di Bala tira poi su quel calcio d'angolo nascerà il gol del pareggio di McKennie e poi anche dopo comunque mi è sembrato veramente una spina nel fianco nella difesa destra, nell'ala destra del Torino spesso in difficoltà su Di Luisingo a volte Lianco, a volte dava una mano a Mete però invece di là è stato quadrato ha fatto lavorare un po' a saldi però principalmente Kuluseski ha fatto veramente poco non è che abbia impensato tanto il terzino dall'altra parte per dire quindi un po' messi così Rabiot mi è piaciuto di meno rispetto alle ultime prestazioni Bentancur ha alternato belli recuperi, bei passaggi, belle robe con delle cazzate colossali quindi anche lui molto in casinista credo che tra i centrocambisti visti Bernardeschi non è valutabile sia stato McKennie il migliore McKennie secondo me è quel bel giocatorino che stavamo forse aspettando se questo qui in grana magari ci dà belle soddisfazioni comunque vedremo anche la situazione e in conclusione, visto che abbiamo detto un po' i singoli veniamo al discorso del gioco la partita io più o meno l'ho interpretata così un primo tempo dove la Juventus ha anche approcciato equilibrato fino all'ottavo poi su un calcio d'angolo un liscio di Bentancur anche di Bonucci che non interviene la palla a Van Coulou tiro rete alla fine il Torino si trova il gol così un abbonamento, grazie mille Ciabbo fatemi ringraziare Ciabbo perché è un bravo ragazzo e quindi dopodiché per il resto onestamente il Torino incredibile come abbia trovato una Juventus completamente in bambola dopo il gol del vantaggio del Torino anziché di avere la reazione furiosa se siamo cagati sotto il Torino in dieci uomini è riuscito fuori rincorno per farsi curare è partito il contropede quel lì del miracolo di Scesini su Zaza cioè tu in dieci uomini devi approfittare cazzo vai a prendere il secondo gol quindi proprio una Juventus completamente partita fuori di testa poi qualcosina ma molto poco male sui calci piazzati male sui calci d'angoli battuti al centro appunto a mente li prendevano loro le due punizioni di sinistro di Di Balla tutte e due finite male quell'altro anche di Ronaldo finita male a un certo punto è preferito mettere il cross di Bentancur quindi non lo so un po' male tutta la squadra nel primo tempo poi abbiamo già parlato dei singoli quindi andiamo al secondo tempo la ripresa inizia molto meglio il Torino poi piano piano inizia a guadagnare un po' di terreno di gioco alla Juve e poi arriva il gol annullato a quadrato per quella discussione su Bonucci valutabile, non valutabile quando vinci le partite finisce tutto nel dimenticatoio comunque a prescindere fatto sta che quel gol annullato anziché spezzare le gambe come si suol dire alla Juventus che dire beh beh basta fuori il gol annullato allora è finita invece sembra che abbia fatto più spaventare il Torino ho avuto questa sensazione il Torino veramente molto spaventato dal gioco che onestamente non mi sembra tanto un gioco dalla Giampaolo Giampaolo era famoso per un gioco molto offensivo il Torino ha fatto cadenaccio comunque fatto sta che comunque la Juventus ha attaccato veramente tanto 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 nella ripresa credo che almeno il pareggio si può dire che l'abbia meritato quadrato Bonucci scusate il gol di McKennie poi è bizzarro come dopo il pareggio Giampaolo che diceva non è successo niente attaccate, attaccate è partito un po' di più il gioco di Giampaolo e la Juventus ha avuto più spazi quegli spazi che non aveva sullo 0-1 quindi sono partiti anche dei contropiedi da lì ci siamo procurati poi altre buone azioni e poi è arrivato il gol di Bonucci e una cosa da dire bizzarro come dicevo anche prima il derby del maestro appunto è bizzarro come Tila si è vista la partita in 70 minuti 0 di rimporta della Juventus vabbè il primo tempo abbiamo fatto cagare e all'inizio della ripresa ha giocato meglio il Torino che cazzo ho detto il primo tempo sono 45 minuti inizio della ripresa sono altri 15 minuti stiamo a 60 stiamo discutendo per 70 minuti Carrasard vabbè 10 minuti in più 10 minuti in meno mamma mia come siamo fiscali comunque vabbè comunque a parte questo il discorso finale era proprio quello lì che è bello poter rispondere in diretta è più divertente comunque diciamo l'ultima chicca della serata il gol di Quadrato è stato annullato per fuorigioco di Bonucci alla fine dopo è Quadrato che fa l'assist per il gol di Bonucci comunque fatto sta un derby comunque emozionante sul finale le scuole stanche io credo che sia da valutare la Juventus che vedremo a Barcellona per il momento mi fermo qui non voglio dare altri giudizi perché questa è una squadra che veramente ogni partita non sai che cacchio vedi ormai questa è una squadra che non puoi neanche dire vabbè stasera è facile vabbè stasera è difficile stasera buh quindi vediamo che succede a Camp Nou magari vinciamo 4 a 0 ehi come certo quante partite a Lega ho visto giocate allo stesso modo infatti mi dicevo che mi ricordava molto il derby il derby era sempre di Allegri quello lì dove gli Aicic segnò su punizione e poi pareggiò al 91esimo Allegri e buonanotte Iguaino non mi ricordo se era Sarri o era Allegri quella Juve lì mi pare ancora Allegri comunque sì sì era ancora Allegri quindi ce ne sono state dei derby vinti all'ultimo comunque vabbè dai ragazzi l'importante è che anche stavolta il Toro la prende Gulu ah sì il Toro ha preso un Gulu sì ecco ci poteva stare il rosso fallo sul Bentancur ah il rosso certo per l'ammunizione di Lukic tacchetto pieno sulla gama sulla caviglia no vabbè ragazzi Orsato e bianconero scusate Orsato è un arbitro bianconero quindi io credo che se Orsato potesse favorire la Juventus sicuramente favorirebbe la Juventus quindi quella di Lukic sicuramente era giallo anzi secondo me era rigore per il Torino e il gol di Bonucci credo che sia nettamente fuori gioco io avrei dato onestamente ammunizione a Bonucci precedentemente per aver risultato così dopo quando c'era l'ammunizione sarebbe stato rosso io personalmente a poso di Orsato avrei fatto così sei soddisfatto di questa Juve caro Ricchi personalmente no ma molto no però ormai fra tre giorni ci vediamo che succede al Camp Nou e aspettiamo per dare i giudizi segnali positivi sì sono nella ripresa forse anche perché il Toro lo ha concesso si è abbassato troppo e si è diviso troppo comunque fatto sta perlomeno portiamo a casa i tre punti perché in questo momento della stagione è importante il gioco perché sta nascendo una nuova squadra però sono portando i puri punti perché altrimenti ciao dopo va via anche l'entusiasmo detto ciò io saluto YouTube ciao YouTube grazie per averci seguito buona serata a tutti